cari figlioli salve ben ritrovati guardate come molleggia sta macchina vediamo in questo video un pochetto come fare soldi facili presumo che questo metodo funzioni solamente per chi come me è veramente all'inizio oggi è il 13 dicembre quindi abbiamo il gioco da due giorni circa e i soldi sono ancora pochi chi è chi è ma che perché devo rompere già una che si chiama jelena seredova mi sa di buona patata mi sa di buona patata allora noi ignoriamo stavo dicendo sì io sono all'inizio quindi ancora ho pochi soldi 8004 non sono pochissimi ma siamo ancora all'inizio quindi questi metodi che vediamo in questo video beh ce li possiamo fare solamente all'inizio poi quando sei più in là non vale la pena ok figlioli ho dovuto fare strage di questi tempisti guardate abbiamo anche delle moto figo la prima volta che vedo delle moto questa davvero tanto particolare guardate che figata molto bella ma torniamo a noi qua come vedete abbiamo un disastro di macchinette questo è un metodo diciamo il metodo delle macchinette lo chiameremo così già estremamente diffuso nel web facciamo così guardate ci costano 10 dollari 10 euro dollari ne compriamo una tipo questa possiamo prenderci anche queste queste costano 10 una sola mazza tirchieria o qua già un pochetto di più ok raccogliamo 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 bene quando poi ci saremo fatto tutte queste macchinette cosa che io adesso per questione di tempo non faccio ci dobbiamo recare presso un posto per vendere queste cose dove c'è questi con cina qua ne abbiamo uno qui uno qui uno qui noi direi andiamo qua e per l'occasione io andrei a fottere una loro moto quale mi prendo questa mi piace un po di più quella molto figa però questa qua mi piace di più codino corto sì 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 bene andiamo allora figlioli se prendo la moto il gioco crash sistematicamente quindi dopo due tentativi e due crash lasciamo stare andiamo con la nostra macchinetta speriamo che risolvano sti problemi perché veramente per me è davvero un disastro crash per qualsiasi cosa benissimo siamo arrivati scendiamo allora vi ricordate che qualcosa l'abbiamo pagato 5 euro dollari o uno altri 10 euro dollari l'uno però guardate noi andiamo nel nostro inventario zaino prendiamo ad esempio questa vedete costa sempre 10 clicchiamo su nel nostro caso il tastino z così tieni premuto e possiamo andare a smontare l'oggetto io non lo so cosa ci sia da smontare da una lettina però prendiamola per buono guardate ne smontiamo solamente uno se vogliamo farne 4 tipo quando abbiamo dodici stack possiamo muovere questa barra di selezione e guardate abbiamo dieci pezzi di materiale generico che dovrebbe essere questo invece il materiale non generico non mi ricordo questi due guardate abbiamo 10 e 30 smontando ne uno ne otteniamo 5 e 2 quindi abbiamo ottenuto sette pezzi da una lattina andiamo qui in queste macchinette dove possiamo vendere andiamo se non sbaglio qua ok dovrebbero essere ecco per esempio questi sono gli oggetti non comuni che ne otteniamo due mentre gli altri comuni vediamo un pochettino se li trovo sono questi qua ne abbiamo ottenuti 5 e guardate da una lattina avevamo ottenuto 5 pezzi che possiamo vendere a 5 l'uno quindi con una lattina solamente questo pezzo abbiamo già guadagnato 25 25 poi possiamo vendere ancora due di questi qua che ci vengono venduti a 8 e siamo a 16 quindi con una lattina abbiamo guadagnato 41 mila euro dollari di cui andiamo a togliere il costo di quella lattina che è 10 abbiamo guadagnato 31 mila 31 euro dollari ovviamente avete visto che abbiamo tantissime lattine tantissime macchinette da svuotare e ci possiamo fare veramente tantissimi soldi così facilmente ora magari ritorniamo nel mio zaino mi smonto no che ho fatto cliccato col tastino sinistro e me la ha l'ho usata anche peccato vabbè pazienza z non clicchiamo ci sopra non fate il mio errore le smontiamo tutte quante e ci ritroviamo a non me le smonta ma pensate a forse queste qua non me le smonta però non ho capito il motivo allora proviamo a farci queste queste non dovrebbero esserci problema ok queste me le ha smontate queste anche vedeteci da tipo l'anteprima nei numerini vai smontami anche questa questo bo probabilmente sarà un bug non lo so questa anche si può molto bene bene una volta che siamo soddisfatti adesso abbiamo 59 e 49 andiamo a venderci le vediamo un pochettino quanti soldi riusciamo a ricavare andiamo qui nei pezzi di ricambio siamo 8.300 che vediamo un pochettino vendiamole pure tutti facciamo 392 conferma poi ci vendiamo anche questi tutti quanti che ci dà altri 300 quindi molto bene e siamo 9 mila ci siamo fatti circa 700 mila così tenendo conto che ho preso solo le lattine di una macchinetta immaginate quante quante altre lattine possiamo farci con le altre macchinette però ricordiamoci una cosa che nel nostro personaggio sotto capacità tecnica abbiamo la possibilità ad esempio di ottenere più componenti se le frappiamo queste abilità per esempio vedete con con un solo punto smontare gli oggetti conferisce più componenti comunque anche non avendo l'abilitata come vedete il guadagno è sempre garantito allora ritorniamo qua adesso provo a farlo io questi qua purtroppo non possono essere smontati vediamo invece questi qua se possiamo smontarli no questi nemmeno burrito dovrei già averli vediamo un pochettino mi piacerebbe avere il tasto direttamente dello zaino non so quale sia burrito questi qua neanche quindi niente burrito questi qui sono diversi sono uguali a quelli vediamo 5 5 dollari ci costano e dovrebbe essere questo che non possono essere smontati a vedete adesso questi quasi possono smontare quindi era semplicemente un bug vediamo sì vabbè siamo saliti con la creazione poi queste ovviamente abbiamo ancora dimenticato uno di prima questi ovviamente possiamo farci ci costano 10 vediamo questi queste anche vai 10 eravamo a 9000 se non ricordo male così vediamo anche quanto guadagniamo poi burrito no lattine vai quindi prima quella lì che ce ne aveva sganciati giù un disastro era un bug la fin fine altre lattine io mi domando com'è che escano circuiti elettrici dalle lattine non lo so è strano le lattine del futuro poi anche queste lattine altre lattine dio quante queste pochissime c'è andate davvero poche questa queste pure si andiamo anche con questa mamma mia quante ok poi qua cos'è che abbiamo costano sempre 10.000 sono altre lattine davvero tantissime ce ne sono tantissime di macchinette qua anche queste perché non me le dà mi scusi le pagate ok bene bene questa attirchissime solo due queste 10 si anche queste sono lattine poi un'altra questa è ricca e questo già ci ha dato un bel po di roba va che roba benissimo siamo solo all'inizio ci siamo fatti questa fila in pratica poi vediamo un po queste quando queste invece si sono lattine quindi prendiamo ce le anche queste si in pratica figlioli sono prevalentemente forse esclusivamente le lattine che possono essere poi smantellate scomposte questa qui sgancia pure mamma mia quanti questa ce ne andate pochetto di meno poi qui cosa abbiamo altre lattine mamma mia tante troppe troppe costano anche queste 10 da 9.000 siamo scesi a qua 6.000 mamma mia vai non me la date queste dai bastarda di una macchinetta ma ha fottuto le cose bastarda c'è praticamente non me le ha droppate a me la buttate qua giù non lo so anche queste queste anche sì anche queste costano 10 questa pure bella carica è un bel po carica bene vediamo un po a che punto siamo ne abbiamo ancora tre ne abbiamo ancora un troppe troppe ne abbiamo siamo sotto 5.000 già bene questa fila ce la siamo fatta funziona pure questa storta vieni dacce dacce finito vabbè poi facciamoci sta fila ritorniamo indietro un attimo questo cosa vende no queste no non sono lattine vediamo queste qua invece sì altre lattine tantissime dio quante però secondo me tante volte non ne ha droppate poche dai ce n'è qualcosa mi si è illuminato qualcosa qua vediamo è secondo me qualcosa non torna stiamo per rimanere quasi senza soldi siamo a 3.000 meno di 3.000 bene queste invece cos'è ma qua non si può fare nulla famose anche queste sì praticamente riusciamo a spendere tutti i soldi anche questa c'è ogni tanto sbaglio il tastino poi ci abbiamo abbiamo prima abbiamo fatto la fila lì ma non abbiamo fatto questa perché c'è solamente questa misa gli altri sono burrito ricca questa molto ricca va che roba ok si mi dà l'impressione di dropparne sempre di meno mi sa mi sta giulando i soldi e meste macchinette queste no queste burrito no allora che cosa abbiamo abbiamo finito figlioli o finalmente quanto ci ho messo dieci minuti abbondanti e queste questa no ma dietro cosa c'è preservativi imboscati questa se ci facciamo anche questa forse l'ultima anche questa strapiena ma che roba tantissimi io per sicurezza adesso faccio un salvataggio non vorrei che mi crashi devo rifare tutto a capo dammi gli ultimi dammi anche questo no ok abbiamo finito c'è ancora queste no abbiamo assolutamente finito faccio un salvataggio benissimo andiamo dalla nostra macchinetta per vendere se poi abbiamo già venduto troppo roba una macchinetta possiamo andare da un'altra ad esempio possiamo andare in questa per esempio allora qua sotto posso saltare giù no mi conviene fare il giro con la macchina dove cacchio è la strada per arrivarci proprio fare un giro e no no mi scusi mia vabbè adesso non arrivano i droni a spararmi vediamo di giro di quasi mamma mia che mazzata occhio non finirlo sotto abbiamo trovato un posto imboscatissimo speriamo che non ci sia gente malintenzionata sembrerebbe tranquillo qua ci sono altre macchinette ah ci sono gli sbirri comunque laggiù c'erano altre macchinette volendo ma comunque lasciamo stare bene allora mettiamoci a scompattare il tutto che sarà anche un lavoro allora inventario zaino guardate quante 91 100 200 300 più 200 400 500 diciamo 500 lattine forse anche un qualcosina in più poi famose pure questo vediamo se clicco direttamente col tastino magari faccio prima tutto smonta 6 benissimo poi ci faccia no l'ho bevuta per sbaglio z smonta ben non me la smontate e ogni tanto si impalla no è vediamo se questa qua me le smonta vai ah siamo siamo già al massimo no ok allora vai riproviamo queste qua vediamo se me le smonta adesso no non me le smonta ogni tanto si bug che ci volete fa vai proviamo questo smonta no non me le sta smontando vediamo queste qui non credo di essere al limite si queste me le ha fatte benissimo poi smonta buonissimo anche queste me le ha fatte rimangono questa cinquantina eh vabbè pazienza non è la fine del mondo vediamo si smonta pure questa si smonta pure questa vediamo queste facciamo si sto giro me la smontate no scusa ho sbagliato zaino schiacciato la xx cosa sarebbe scusatemi lascia ah vabbè le ho lasciate no smonta vediamo se no queste non me le fa vabbè pazienza abbiamo 2500 più 1000 mamma mia tantissimi era creazione ok ci ha dato punteggi vediamo un pochettino allora ci abbiamo siamo dal 9000 siamo rimasti a 750 quindi 8250 abbiamo speso vediamo adesso da questi 8250 quanto arriviamo allora dovrebbero essere vediamo queste 6 tutte 8000 già quasi con queste abbiamo già quasi recuperato tutto vai conferma poi ci rimangono gli altri dovrebbero essere giù in fondo vediamo quanto buono no 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 scusa tutti tutti il venditore non ha abbastanza denaro a 1100 e 9 ok beh fermiamoci qua va benissimo comunque avete visto siamo partiti da 9000 e saremmo arrivati tranquillamente a 22000 crediti in 15 minuti di gioco quindi niente male beh cari figlioli spero che questo video vi sia piaciuto se così sapete cosa fare poi ci sono altre tecniche vediamo in altro video questa signora cosa si sta spruzzando in faccia no ha capito male non è quello che bisogna spruzzare grazie